Domande da non fare mai ad un tatuatore Ma posso farti una domanda? Ma tu i tatuaggi te li fai da sola? Eh, qualcuno sì, però non tutti è impossibile Ah, ma quindi bisogna essere bravi a disegnare? Eh, sì, direi proprio di sì, visto che dopo non va più via Sì Ma quindi il patodiceo artistico? Sì Sì Io non so disegnare, però mi piacerebbe tanto tatuare E come potrei fare? Dove dovrei andare? In che senso, scusami? Sì, sì, proprio io non sono capace di disegnare Però vorrei tatuare? Come posso fare? Prima impari a disegnare e dopo puoi pensarci I won't be afraid? Come can I? Base, potrei per me! Come ho pensare a disegnare e dopo la pagina? Come ho pensare a disegnare e dimenticare?